Salve amici e ben ritrovati nella sezione di Margie Style. Oggi presenteremo come realizzare un bracciale semplicissimo con del filo elastico. Quello che serve è del filo elastico, 7 perline in acciaio, 8 perline bianche, dei distanziatori 30 a forma di fiore, un ciontolo, due anelli apribili ed una pinza. Tagliamo 50 cm di filo elastico, diciamo abbondante però poi possiamo tagliarlo. E facciamo un nodo, uno o anche due, per rinforzare. Dall'altra parte iniziamo ad infilare i nostri accessori. Noi partiamo con una perlina bianca. Due distanziatori Uno E due Ed una perlina in acciaio. Facciamo scendere Continuiamo così Dopo aver inserito le perline non ci resta che mettere il ciondolo. Possiamo metterlo così com'è o anche renderlo un po' più lungo con gli anellini apribili. Questi Apriamo uno leggermente Possiamo usare anche altre, una piccola catena, quello che abbiamo a disposizione. Stringiamo bene Stringiamo bene E la inseriamo Adesso non ci resta che concludere facendo diversi nodi E a questo punto sottolineo diversi perché potrebbero aprirsi Rinforziamo parecchio Ci accertiamo che non si aprano Ecco qui Prima di tagliare accertiamoci che siano ben fermi Abbiamo finito adesso di realizzare diversi nodi Andiamo a tagliare il filo in eccesso Ed inserire Se vogliamo possiamo anche livellare ma eventualmente reinserire la parte in eccesso Nella perline Ed ecco qui Con questo breve video Margi vi saluta e vi aspetta sul sito www.margistyle.com E sulla pagina facebook Margi Style Alla prossima